Buona giornata a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Quest'oggi torniamo a parlare di tennis, dopo due giorni in cui sono stato un po' impegnato in quanto è venuta la nascita del mio primo figlio, quindi vi metto già le mani avanti. Non sono molto aggiornato sugli ultimi avvenimenti nel mondo del tennis, ho cercato di reperire qualche informazione, ho guardato qualche highlights delle qualificazioni, ho letto qualche breve dichiarazione, però in questo momento la testa e il tempo è dedicato giustamente ad altro. Tuttavia sono riuscito a ritagliarmi questi 5 minuti per fare questo video di aggiornamento a cui tenevo e qualificazioni appunto del 1000 di Madrid che hanno visto praticamente tutti gli italiani lasciarci ed essere eliminati perché l'ultimo è stato Zeppieri nella partita di ieri contro Bagnis che ha perso 2-0, poi abbiamo Napolitano che ha perso 2-0 contro Gasquet, Gasquet che interesserà da vicino il nostro Sinner ma ne parliamo dopo, Vavassori 2-0 contro Comesana e Gigante 2-0 contro Kovacevic, quindi diciamo che le qualificazioni non hanno sorriso agli azzurri, parlerò solo del tabellone maschile, per quanto riguarda il tennis femminile dedicheremo un video a parte perché lì la presenza delle italiane è corposa. Andiamo a vedere cosa è successo perché è avvenuto lunedì appunto il sorteggio del tabellone del 1000 di Madrid e quindi il nostro Sinner parte alta del tabellone per la prima volta Sinner testa di serie numero 1, quindi un grande onore e anche una grande responsabilità, anche perché ricordiamo che Diokovic è fuori, Sinner ha parlato, ha detto che lui assolutamente non si paragona né a Diokovic né ad Aikaraz perché comunque insomma Diokovic ha fatto la storia del tennis e Aikaraz ha già vinto più di lui, quindi questo comunque fa molto onore a Jannik che dimostra grande umiltà e dimostra grande voglia di migliorarsi e volare basso per cercare di raggiungere vette inimmaginabili come sta facendo in questo momento e in questi mesi e credo che sia la mentalità giusta per diventare il campione che già è, ma per mantenersi e andare avanti ancora. Anche Aikaraz ha parlato, ha detto che ha 3-4 partite nelle gambe diciamo, non si aspetta molto di più, però vedremo se sarà un po' pretattica e poi il campo ci dirà quello che sarà anche perché non dimentichiamoci che Diokovic è fuori, Sinner ha detto che per lui Madrid sarà poco più che un allenamento, Aikaraz mette le mani avanti, quindi mi viene da chiedere e da chiedervi secondo voi chi sarà il favorito per questo 1000 di Madrid? Medvedev, Zizipas e Rudd, però anche Zizipas e Rudd sicuramente sono lanciati, due finali a Monte Carlo e Barcellona, si sono divisi le poste in paglio, potrebbe essere uno di loro due, vedremo, vedremo, io a questo punto non escluderei che Sinner visti anche le vicissitudini appunto di questi giorni non possa tirare fuori una zampata delle sue e magari portarsi a casa l'intera posta in paglio, però staremo a vedere, deve ancora iniziare il main draw che inizierà proprio questa mattina e quindi è anche presto per dare giudizi finché non vedremo Sinner in campo, Aikaraz in campo, Zizipas e Rudd, Medvedev, sarà difficile, magari sarà il torneo che ci regalerà una sorpresa, non dimentichiamo che l'anno scorso in finale c'è Andro Strouff che fu una grossa rivelazione, quindi staremo a vedere, comunque Yannick Sinner che è della parte alta del tabellone e aspetta il vincente dell'incontro tra Sonigo e appunto Richard Gasquet come dicevo prima, quindi potrebbe essere subito derby per Sinner, comunque non sarebbe una partita semplice contro Sonigo, chiaro che il livello di Sinner è nettamente superiore a quello del tennista torinese, però quando si gioca a una partita così in casa sono grandi amici, mai darle per scontato, anche perché se Sinner ha detto che per lui sarà diciamo un mille, un po' diciamo interlocutori, un previsione di Roma e di Madrid e di Der Roland-Garou, chiedo scusa, mai dire mai, però Yannick parte con tutti i favori del pronostico. Poi andando avanti eventualmente Sinner troverebbe Thompson che se la vedrà contro Kotov o Ramos e Ramos Vignolas, quindi uno di questi tre tennisti nel caso in cui prosegua nella sua avventura, quindi diciamo non degli impegni così impossibili per il nostro Yannick che successivamente potrebbe trovare Karen Kachanov, Kachanov che è dalla parte del tabellone di sempre ovviamente di Sinner ma potrebbe incontrare il vincente tra Tabilo e il nostro Flavio Cobolli, altro azzurro, ma prima ancora hanno anche Gerry da quella parte del tabellone, quindi diciamo Karen Kachanov tra tutti questi potrebbe essere il tennista che Sinner andrà a incontrare prima di un ipotetico ovviamente incontro con Medvedev che dovrebbe avvenire in semifinale se Sinner farà percorso netto. Ci sono sei azzurri, dimenticavo di dirvi, in questo main draw, in questo tabellone principale che sono appunto Yannick Sinner, Lorenzo Sonego, Flavio Cobolli, Matteo Arnaldi, Lorenzo Musetti e Luciano Darderi. Parte bassa del tabellone appunto che vede impegnato oggi in campo l'unico italiano nel maschile se non erro Darderi contro Guy Monfils dalla parte di Baez e Fritz, quindi insomma per Darderi già un match molto difficile contro un tennista così navigato contro Monfils, però si giocherà le sue carte Luciano e secondo me potrà dire la sua. Poi abbiamo Musetti che incontrerà Ossafio lì in Osaybot Wilde, anche lui in attesa di conoscere l'avversario, Musetti che dà la parte di Alcaraz, quindi chiaramente per Musetti non si prospetta di un torneo semplice, però magari Alcaraz non al 100%, Musetti è in grado di buttare giù chiunque, quindi anche lì sono molto curioso e se avrò la possibilità di seguire il match sarà molto molto interessante. Poi per concludere un accenno a Nadal che è dalla parte bassa, correggetemi se sto dicendo, no scusate è parte alta del tabellone e contro Deminer, cioè nel gruppetto di Deminer avrà una wildcard Blanc, Blanche, uno statunitense. Quindi ecco questo è un po' riepilogo, sono più ottimista che non fa i giorni scorsi nei confronti di Yannick Sinner che secondo me può anche arrivare in fondo. Detto questo io vi do appuntamento nel prossimo video, appena avrò tempo e occasione di sistemarmi sicuramente sarò un po' più frequente con le pubblicazioni, io vi auguro intanto una buona giornata e ci vediamo presto!